L'indagine che ha portato all'arresto di un ragazzo egiziano di 22 anni per contatti con l'ISIS è partita dall'Aquila. L'accusa ipotizzata è associazione con finalità di terrorismo internazionale e stigazione apologia del terrorismo. L'uomo è stato preso a Milano, intercettato, mentre diceva sono pronto a combattere. Un lupo solitario organico dell'ISIS, così è stato definito, arrestato in un blitz antiterrorismo della polizia a Milano. In manette c'è finito un egiziano di 22 anni, bloccato in piena notte dagli uomini del NOX. Molto importante il ruolo della città dell'Aquila, perché tutto è partito da lì. Il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso infatti dal GIP dell'Aquila, la città, appunto, il capoluogo di regione da dove è partita l'indagine. Oltre al blitz a Milano sono scattate contemporaneamente diverse perquisizioni in Abruzzo, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte. Le indagini, dirette dalla DDA dell'Aquila con il coordinamento della Procura Nazionale Antimafia e Terrorismo, sono state condotte dalle DIGOS delle città abruzzese, oltre a quelle di Teramo, Piacenza e Milano, parallelamente ai compartimenti della Polizia Postale di Abruzzo ed Emilia Romagna. A coordinare diversi uffici sono stati l'Ufficio per il Contrasto al Terrorismo Esterno dell'Antiterrorismo e il Servizio della Polizia Postale. E' emerso che lo Scialabi lavorava presso il McDonald di Colonnella in provincia di Teramo, come ha detto alle pulizie. Il soggetto è stato in quel luogo fino a giugno, dopodiché si è spostato in provincia di Cuneo, là dove ha continuato a fare esattamente lo stesso lavoro. A un certo punto, per problemi legati alla sua irregolarità sul territorio nazionale, si è spostato di nuovo a Milano, cambiando lavoro. Sono pronto a combattere e a fare la guerra, è quanto hanno sentito dire al 22enne egiziano gli investigatori della Polizia, che da tempo lo tenevano sotto controllo grazie alle intercettazioni telefoniche. Gli approfondimenti investigativi portati avanti hanno poi consentito di accertare la sua pericolosità. Lui stesso si definiva con gli altri indagati nel corso di questa indagine un lupo solitario, si vantava pure di aver ricevuto un addestramento militare approfondito. Altre due persone con lui sono finite nel registro degli indagati. Nei loro confronti è stato emesso un provvedimento di espulsione da parte del Ministero dell'Interno, anche se uno dei due al momento risulta irreperibile. I due destinatari del provvedimento sono anche loro egiziani, un 21enne e un 23enne, che secondo gli investigatori avevano dei legami di stretta amicizia con il 22enne egiziano e svolgevano anche loro attività di propaganda per lo Stato Islamico. L'indagine nasce oltre un anno fa e, dicono gli investigatori, conferma anche l'efficacia del livello di prevenzione che c'è nell'Italia. A ricevere la prima informazione è stata infatti l'intelligence. Verso la fine del 2017, gli 007 hanno segnalato che tra i frequentatori di un gruppo WhatsApp, formato da militanti islamisti, ce n'era uno che aveva un'utenza italiana. E tutto è partito da lì.